mi è arrivata la notifica oh alleluia ce l'hai fatta finalmente si è giusto a me chila in 144p raga io stasera non ci sono perchè c'è il diciottesimo a me chiamato no vado a vedere un attimo io monietti monietti ma semmai mi dice che è online stai spaccando dal vivo è dal vivo sei dal vivo stessi sentendo non voci di merda no andiamo chiesa io ho cambiato io sono eh ma facciamo coppie facciamo coppia no 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 ragazzi che si non no 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 io sono da sola eh non sei sono da sola no no raga due contro due no è perchè sono tu no ma perchè hai perso vita ora che io non sono in squadra con lui ah sei da sola per forza sarei da solo io nooo non ci credo no 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 vabbè ma quando è che ha aperto il canale? oggi mi sa due iscritti cerchi c'erliore due iscritti cerchio due 2 io ne ero 78 qua non ho più voi ma ci sei? no ho sbagliato No, sei scemo Oh, nienti Ah, ci sei? Non parlavi più Adesso i lotti si sono smischiati Bravo Ma chi è che ha ucciso? Si è ammazzato da solo Oh, stai fermo Dammi il mio M16 Osti Ma perché qui ti? L'M... Oh, il M16 verde era mio Oh, il M16 verde era mio Cosa stai mangiando le o ancora? Oh, stai sbagliato Sto mangiando una pezza di là Ma ti si è ammazzato da solo Ti si è ammazzato da solo Ma se ti si è ammazzato da solo Ma se ti si è ammazzato da solo No, non è un po' No, non è un po' No, non è un po' Voi Non ci hai capo Non ci vedo Non ci vedo Non ci vedo Non ci vedo ok sto da prendere un'altra parte non qua si è un attimo che sto raggando si ma perchè non posso vedere quanti pingoo io so qua eh ma non posso sull'ipad rigi ma dov'è che sei? e dove? se cambia se vuoi fai il crash crash ovvero no no ragazzi non uccidetemi non tanto sei morto appena che arrivi niente oh dov'è che sei tu niente vieni con me perchè mi costruisce da solo ho sbagliato raga guarda vieni vediamo dov'è se era di là hai visto? dove sei andato? e che ho preso il portale che vuoi essere il portale? e laggiù sono a montagna ma dov'è? a tempo che vuoi essere un nemico bisogna un colco di mano per che posso mettere? posso mettere col hotspot perchè sto laggando tanto grazie per il drop comunque non lo so si stanno incontriendo ma dov'è? dove c'è? praticamente e a sud di palmetto poi c'è il ponte col camion e come c'è che ti interessa? eeeh 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 sud dove? sud di palmetto ok a parte che di vennero dove lo vedi però avete presente dove c'è la città ebrea lì? che si chiama? ebrea? e come si chiama? ah forse ho capito Jerusalem tipo è che la chiamo a te o così vabbè non mi ricordavo no Mognetti vieni vieni Mognetti è lì dov'è che sei? no vedi capito dove? si io non c'è niente so che non so dov'è eh non lo vedo aspetta te raga io sto un attimo camperata che sto da ca' non so oh mai l'ho trovato no ha cambiato squadra eccolo l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato dov'è che è? è al benzinaio qua dove dove? dove? compare turismo ma in che città? eh? vicino a quella là dove? oh che è che me l'ho beccato? ah ma sei te? ma io ma dai ti sparo che cosa? non è raga in due contro di me ma è vero che voi siete squadra no non siamo squadra no si frate va bene merda ma cosa vuoi pushare? ho capito dov'è è qua dov'è? no aspetta no ho sbagliato e quello è il mio loot ho sbagliato cazzo aspettate un attimo è lui è lui aspettate un attimo che ho sbagliato con l'ultimo no no non amazzalo non amazzalo mi mancano due armi ne trovo prima sembra colpa mia figa non ci credo che to' che to' che to' che to' che non so' cosa è ormai ma che mi piace ma che mi fa ho sbagliato con l'ultimo ma perché lo sto facendo troppo vorrei mettere posto però se se crash monietti lasciano in pace trovo non avevo ancora ho una storia perché sto l'altro no non ti parlo e cristiano ma il figlio infatti messo bene dai messo da dio aspetta che provo a sparare lui e me non riesco immamorato che fa sto rumore con il microfono scappato ma perché non mi fai tirato visuale o la sabbia questo ma è che sono fatta apposta lo dici tu ti ascoltano no devono metterlo è presto disponibile no non hanno ancora messo è presto disponibile che fa sto rumore con il microfono è sparatutto è sparatutto ah c'è sparatutto dio ciao sparatutto no no sentiamo di più il tuo microfono rotto anch'io richio guarda che c'è il tuo luco che troppo davanti che questo cuore sarà lui ma se c'è lo scorro ma dov'è ma dov'è ma dov'è qua qua basta dire la parola ma sta laggando poi ci sto laggando io oh ma chi ti spara no l'ho visto eh raga pure laggando io ah avete sentito mio fratello eh no ba lagga te come me sei nabbo e chi sei nabbo e chi non c'è niente da fare farà tutto farà tutto non mi interessa perchè non l'hai centrata oh basta far rumore col microfono tu certo che sei tu certo che sei tu certo sei sempre tu quello del microfono ma come faccio salire fino all'interno ma come faccio salire fino all'interno il ma non è calmo non c'è neanche calmo ha trovato l'urtre non ti sto mirando grazie per questi pescudini non mi fa saltare e vai indietro avanti e vai indietro avanti strano eh strano che sei strano ma si è ancora in live ma si è ancora in live ma si è ancora in live ma tu è bella wifi no 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 ma se lo aspettavo sola si 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 è in live beh 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 stiamo laggando tutti mi so io? per un anno quando metteranno la fibra qui dalle nostre parti danno ma tu non sei più capace di ristallare certo si va lì eh ma poi vuoi dare il trattore? eh si può guidare il trattore? si può guidare il trattore? ma no ma come cazzo fa? si può guidare il trattore? no le ho non ancora non so neanche se mai lo metteranno no ammazzarlo non ammazzarlo ma non è ma non è non è ma come se lo metto ti 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 ma come se lo metto O, Ricci Dove che si edza? Vieni qua, vieni qua, farà tutto Andiamocene Ho visto adesso dove chiede Andiamo qua, andiamo qua, vai, vai Ma siete alleati adesso Ulama, Ulama Andiamo Capiamo Ma davvero siete alleati Ma quante jump hai? Vieni, facciamoci un falò Vieni Vai Ma se lo metti dentro lì Non succede Oh, aspetta che metto il falò Chi è quello lì che continua jump Temporo Oh Come ho fatto Con rampino Mi volevo uccidere con rampino Non mi sa Porca Mi hai fatto male Ma come cazzo hai fatto? Ecccio Con un colpo E non c'è Saranno proprio contenti Prendete l'anzarazzi Uccisa Uccisa Ma dai raga Ma acquittato Non lo so Sì Non è nemmeno brava Riky Sì Acquitta Quanti chi l'hai fatto? Quanti chi l'hai fatto? No C'è Lorenz online Quanti chi l'hai fatto? No Aspetta C'è qualcuno No Troppo ucciso Uccisa 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 C'è No, no, no Via No, ma hai preso i cosi No, no Hai fatto un po' di kille No, no Hai fatto un po' di kille Mognetti Facciamo squadra Ehm Boh Vai Facciamo squadra Facciamo squadra Ehi Ma cosa vuoi ci getti? Fanculo Guarda 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 Aspettate un attimo che... Mi è caduto più Eh ma... ma rubate... eh no... no 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 aspettate che non hai merito Avevo proprio ragione Sì Però Eriki Ti sei incazzato Dovevo prendermi i tempi meri Lo sai? Sì Leo è un gioco Ah ce l'ho regalo Io sei troppo giocato Che cosa? Dovevo uccidere lui? E' lei in un minuto E' lei in un minuto E' mio Speriamo che si ricarica Vado Vai 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 A noi monete Quello Dai sparalo 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 Ma come cazzo fai? Sparalo Sparalo dimmi sei tutto ma come ha fatto ma se tu con la roba che attacchi le robe le attacchi alla persona come viene? noi non so no 3 di vita 3 di vita ma perché? che cosa vuoi ancora tu? ok grazie hai sbagliato l'atterraggio in più che ha vinto 3 di vita eh io ah ma è roba niente io ci sono andato sicuro ho detto a 3 di vita io a 3 di vita e 50 anni ma richi dov'è? richi richi vieni vieni ti aiuto scappiamo insieme vai dammi un'arma scappiamo insieme vai venga dove siete? grande eh anche i colpi grande andiamo andiamo vai 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 sei ricaricata ho sbagliato vieni 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 dove siete? lo scar è mio dammi lo scar dammi dammi vieni 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 dove siete noi? andiamo ma perché non ci fa salire eh aspetta un attimo ma perchè non riuscivo a girarmi? ah era uccido raga 11 kill solo di gol? uno solo di gol? ah si ok al cento per cento che sta andando? non penso che non posso ma si ma non fate una volta niente solo perchè lo aiuto hai piccoli hai piccoli hai piccoli ma voi siete squadre insieme che non ho capito o è il contrario ma è lui che ti aiuta ecco lì ce ne sono due la due ma siete fermi il due contro di me non vale però nooo bello di z lei è da sola non vale sei a presto sei a presto due contro di due contro di un due contro di un uno i medici niente di vita niente di vita vai uno che fa cosa con un microfono ma io devo andare a prendere il loot ma io devo andare a prendere il loot a me servono i colpi ecco ecco com'è che ha fatto? è è ecco grande andiamo vieni bella Oh! Da qua! L'avrò, avrò più! Eh, non avevo più munizia. Cioè, non è che non avevo più munizia niente, volevo ricaricare. No! A me, a me avete rubato quelli del... del pompa, qualcuno me ne può dare anche... anche 40, cioè pochi, perché... Nooo, non ho munizioni. Oh, hai munizioni di pompa da guerra! Nooo, non avevo armi! Non mi facevo ammazzarti. Oh! Hai munizioni di pompa da darmi? Nooo, sei fermo, figlio! Testo... Ti stavo dando le munizioni, eh! Aspetta, aspetta! Che lo prendo! E non so neanche dove ho il mio loot! Gli angeli! Nooo! L'ho trovato adesso! L'ho trovato! L'ho trovato! Oh! Mi date i colpi! Oh, figlio! Mi hai preso tutti i colpi, però, tu e... Mi hai rubato te il loot! Serve un attimo! No, un attimo che non ho colpi! Non ho colpi! Via! Oh, qualcuno mi dà i colpi perché quel bambino lì mi riruba! va! Eh, eh! Non si rubano i colpi, eh! Dove è adesso un minuto? Oh, adesso mi dai colpi te! No, no! Non ho il mio loot e non ho colpi! Dio! 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 Ah, hai visto che c'è dentro! C'è dentro! Un minuto perché è l'urto! io devo grattar no, non ho più, non ho avuto i munizioni, non ho più i munizioni eh, c'è quel bambino lì che le ruba va e vai sì, ma dai, quanti siete contro di me? siete in tre contro di me tra un po'? sì, sì tanto guarda se ti manca qualcosa che magari per sbaglio ti ho preso io ricky eh, ma, eh, mognetti, mettiti fuori con me a sto punto tanto golpi piccoli coglioni, ho ottengente voleva provare il rampino è ancora in line è ancora in line sì, che vale sì, che vale sì, che vale e ha parlato hai parlato proprio tu, eh più inquarente di tu no, perché ti sta dan... no 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 ai colpi ai colpi oh lama vado a prende il lama dai colpi dai colpi ai colpi lancerà dai ok Oh ovo carico mi l'amma l'amma si non si è che lui che io già già ma che vuoi buono perché al primo hai detto che ti stai ricordi è andata a momenti tutto a momenti sono in cerca di proiettori ma morto sempre dove che siete chiuso a discoteca vieni dai che hai perso un po' di vita facciamoci sto palo dov'è che siete non ne ho di trappole è andata aiii ah Caraga io vando Ah io basta Ciao 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 Ciao